buongiorno da maria luisa barbarulo nello spazio social di immense life oggi sono con noi fabio bandiera buongiorno fabio buongiorno maria luisa buongiorno marco e marco guerra buongiorno marco buongiorno a te maria luisa buongiorno fabio marco guerra come sapete tutti è il proprietario della libreria pagine tre quattro otto di roma e a questo proposito con marco abbiamo una bellissima notizia da darvi perché abbiamo creato una convenzione per cui gli amici di immense life che vivono a roma potranno recarsi alla libreria pagine tre quattro otto di via cesare pavese tre quattro otto a roma la libreria si trova all'eur e riceveranno uno sconto sul prezzo di copertina del cinque per cento invece per gli amici di immense life che abitano fuori roma potranno comunque acquistare presso la libreria di marco online il libro ma la sferizione del libro sarà gratuita quindi a breve troverete comunque tutte le informazioni di questa bellissima convenzione che abbiamo creato per promuovere la cultura e per promuovere le librerie di territorio insieme a marco e detto questo cedo come sempre la parola a fabio e resto in attesa delle novità del mese benissimo eccoci qua maria luisa eccoci qua marco col nostro quarto incontro con la libreria c'è tre quattro otto di cesare pavese a quello che ha detto maria luisa volevo aggiungere solamente una postilla che comunque per tutti gli autori che sono romani scrittori romani c'è la possibilità eventualmente di avere la libro il libro copiato quindi con la firma dell'autore e in tal senso lasciamo a tutti gli utenti di immense life l'indirizzo info chiocciola pagina tre quattro otto punto it perché chi fosse interessato chiaramente oltre ad acquistare il libro col cinque per cento di sconto anche ad avere la possibilità di avere una copia firmata dall'autore basta essere numerosi quindi scrivere a marco una bella mail e c'è anche questa possibilità per tutti gli scrittori che chiaramente vivono a roma e sono in attività a roma detto questo ci addentriamo nel nostro focus appunto questa volta dedichiamo ad uno scrittore appunto romano fatto questa premessa proprio per agganciarmi allo scrittore di cui parleremo oggi che è Piero Trellini Piero Trellini uscito da pochi giorni in libreria con una sua terza opera monumentale volevo chiedere a marco innanzitutto chi è Piero Trellini come è arrivato in contatto con la libreria Cesare Pavese e come si è avviato poi alla scrittura questo è il suo terzo la sua terza fatica editoriale allora il diciamo il libro di di cui parlavi Fabio cioè quello appena uscito è questo qua si intitola l'affaire tutti gli uomini del caso dei fius pubblicato da Bompiani ma se dobbiamo riavvolgere il nastro e scoprire come sapere come personalmente la nostra libreria ha conosciuto questo autore dobbiamo risalire a questo libro qua che si intitola la partita il romanzo di Italia Brasile la tua domanda è chi è Piero Trellini Piero Trellini è un autore che viene dal giornalismo ha scritto su diversi su diverse testate è un autore che racconta delle storie con un metodo molto particolare che parli di Italia Brasile del mondiale del 1982 che parli del caso dei fius della fine dell'ottocento a Parigi o che parli della vita di Dante Alighieri lui mette nella nella sua pagina un suo metodo di ricerca e di racconto di queste storie molto particolare ed è quello che 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 affascina il lettore nel senso che lui racconta un avvenimento partendo da tanti punti contemporaneamente soprattutto da quelle storie che sembrano a prima vista insignificanti e costruendo eh questo racconto proprio partendo da tutti questi particolari cioè si arriva al centro della storia partendo da tutti i protagonisti di questa storia anche dai comprimari anche dalla gente di seconda di terza fila è veramente un narratore appunto quindi poi approfondiremo come dicevi tu queste tre opere nel dettaglio e adesso partiamo proprio da dall'ultima sua fatica editoriale che appunto si intitola La Faire un'opera che scandaglia nei minimi dettagli come tu accennavi prima uno dei casi più famosi più dibattuti no della letteratura dell'ottocento fine ottocento un libro di oltre 1300 pagine se non sbaglio che chiaramente delineano lo stile molto particolare del nostro autore che libro è La Faire Marco? Allora La Faire è un libro il primo aggettivo ovviamente è voluminoso nel senso che è un libro molto lungo ehm è un libro che racconta questa storia che apparentemente eh diciamo eh avremmo torto se pensassimo che questa storia è una storia soltanto del passato se è una storia che riguardando un altro paese nella fattispecie la Francia ehm non ci riguarda eh avremmo torto se pensassimo che che le cose che sono successe in quegli anni eh non siano ancora importanti perché perché al centro di questa storia c'è un uomo accusato ingiustamente c'è un militare eh francese di religione ebraica accusato ingiustamente all'interno di un di un di un sistema di un paese che andava cambiando cambiava la civiltà europea alla fine dell'ottocento c'era un vecchio c'era un mondo che tramontava che era quello del dell'aristocrazia delle alte gerarchie militari di 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 come la società era organizzata e sotto la spinta di un sacco di cose del fatto che la società si andava aprendo del fatto che nuovi sceti arrivavano sulla ribalta del fatto che la tecnologia permetteva di prendere un treno e percorrere in poche ore distanze che 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 a cavallo con la carrozza ci diciamo sarebbero state molto maggiori il telegrafo la posta pneumatica c'era tutto un fiorire di di invenzioni che cambiavano il corso che hanno cambiato il corso della storia uno ripeto potrebbe dire cosa me ne importa di questa storia cosa me ne importa di questo libro che è molto lungo e che è ricco anche di tabelle schemi riassunti eccetera eccetera sarebbe un errore perché c'è il ruolo della stampa lì nasce con il fatto che in Francia ci sono delle riforme che allargano la platea delle persone che sanno leggere e scrivere anche le cameriere sanno leggere e scrivere anche le domestiche anche le persone che fanno i lavori più umili e nascono i giornali i giornali sono in grado di condizionare l'opinione pubblica e ci sono dei giornali che accusano di refuse e degli altri che lo difendono e sono stati scritti un sacco di libri su questo argomento sono stati realizzati dei film uno di recente e è un è un tema di cui ancora dobbiamo parlare perché lì nascevano molte delle contraddizioni delle nostre società delle società nelle quali viviamo un grande pregio di questo libro se può essere visto come un difetto il fatto di non trascurare praticamente nulla ci sono tutti i personaggi ci sono tutti i giornali ci sono tutte le prese di posizione il pregio di questo libro è che ha dei capitoli molto brevi e quindi se anche una persona un lettore ha poca dimestichezza magari con i libri lunghi deve sapere che i capitoli sono molto brevi che non ci sono note a piedi pagina e quindi non è il libro fabbio del grande professore universitario del grande studioso nel quale tu magari leggi venti righe di testo e 40 righe di note con riferimenti a documenti eccetera eccetera lo puoi leggere tranquillamente come un romanzo come una storia anche se tutto quello che è contenuto nei libri di Piero è spietatamente verificato perché Piero è un autore che si documenta a lungo che studia molto bene le cose che diciamo che delle quali poi scrive e che ha soprattutto una grande passione per la storia e per i sentimenti delle persone e come le persone cambiano in base alle cose che succedono nella società vale per una partita di calcio vale per uno scandalo di fine ottocento o vale per Dante Lighieri che poi diventa uno dei grandi nomi della letteratura italiana perfetto quindi Piero Trellini vi chiede una dedizione assoluta la sua dedizione nello scrivere deve essere uguale a quella che lo scritto al lettore mette dall'altra parte perché chiaramente come dicevi tu romanzo di un'attualità e di una modernità impressionante in cui Piero va veramente a sviluppare tutta una serie di temi che sembrano lontani ma che sono molto molto vicini al nostro purtroppo in questo momento la guerra ancora di più eh contemporanea quindi questo è Dreyfus poi facciamo un salto indietro dell'anno scorso settecento anni a commemorazione della morte del del sommo poeta di Dante anche qui eh Piero chiaramente sono usciti tantissimi libri sull'argomento l'anno scorso ci mette del suo e quindi esce Danteide per la Bonpiani un libro che si differenzia dagli altri in che cosa se si differenzia Marco che tipo di lavoro ha svolto eh Piero su una figura così complessa allora volevo aggiungere al al discorso di prima una cosa che mi è venuta in mente solo adesso il eh Trellini ti chiede molto ecco se in questa rubrica abbiamo parlato di romanzi abbiamo parlato di di libri che sono più non più facili da leggere ma sono più distesi più chiari più semplici Trellini ti chiede molto nel senso che eh richiede la tua attenzione eh sono storie che magari ripeto apparentemente non ti interessano però ti dà moltissimo ecco che cosa ti dà questa storia questa storia ti dà una cosa che io personalmente non avevo mai letto cioè il cuore di questo libro così come il cuore della ferra era l'irrompere della modernità in un paese come la Francia eh alla fine dell'ottocento il rompere della contemporaneità del del telegrafo del del della ferrovia eccetera eccetera questo è il mondo del secolo di Dante visto con gli occhi di Dante cioè tutta la documentazione tutto il lavoro di ricerca il sistema il il modo con cui Dante Piero Trellini racconta questa storia ti fa stare nei panni di Dante nel senso che tu questo libro lo lo leggi e vedi il mondo con gli occhi di Dante Alighieri vedi le signorie di quell'epoca e ti accorgi che in realtà sono tutti imparentati fra di loro perché la sorella di quello di eh eh sposa il re del il il la signoria di quell'altro poi quell'altro fa guerra a quell'altro ancora ti accorgi che l'Italia era era abitata ma era un posto ancora piccolo ci si spostava a fatica e ti accorgi che anche lì la tecnologia è importante perché perché eh se in un secolo particolare il clima è più mite le coltivazioni danno più frutti e quindi la gente mangia meglio e quindi i contadini non si arrabbiano e non fanno rivolte e quindi i ricchi cominciano a valutare l'acquisto di terreni agricoli appena fuori dalle città città nelle quali si erano chiusi nei nei periodi nei secoli più bui del medioevo e quindi cominciano a nascere le corporazioni a Firenze ci sono quelli delle stoffe ci sono i calzaiuoli ci sono i fabbri i falegnami eccetera eccetera ma tutto questo con gli occhi di Dante cioè tu passeggi per la Firenze di quel tempo e vieni esiliato diciamo dalla Firenze di quel tempo il capitolo più bello è la scoperta delle ossa di Dante perché Dante è sepolto a Ravenna ma le ossa leggendo il primo capitolo ti accorgi che le ossa non stanno dove dovrebbero stare ecco questo lo sembra far somigliare questo libro a un giallo ma veramente serve a farti piombare in quell'epoca a vestire quei panni a vivere quelle vicende e questo anche in questo caso il primo era pubblicato da Mondatori poi Piero passa a Bompiani questo è il primo libro pubblicato per Bompiani ancora una volta Piero Trellini si dimostra capace di farti vivere le vite degli altri ecco questo è veramente è veramente uno dei suoi principali doni secondo me quindi un'indagine storica ad altezza d'uomo si vestono i panni di Dante e si va a braccetto con lui insomma da quello quindi anche qui l'opera di Piero comunque si smarca dalle altre per la sua unicità diciamo no? E quindi anche l'editore chiaramente con testi così complessi anche così lunghi è un editore virtuoso che comunque dà spazio e concede chiaramente materiale ad uno scrittore che comunque lo merita assolutamente. Certo Fabio perché scusa se ti interrompo? Vai vai. Devono esserci libri per tutti i tipi di pubblico c'è il no c'è il libro che si vende da solo c'è il libro che vende cinquantamila copie in un mese c'è il libro che arriva a tante persone c'è il libro di genere quindi c'è il giallo c'è il libro di cucina c'è la biografia eccetera eccetera in una letteratura in un panorama letterario culturale deve esserci spazio per tutti deve esserci spazio anche per libri apparentemente più difficili ma che magari incontrano il gusto di un pubblico magari ristretto ma comunque di sinceri appassionati di questo o di quell'argomento e se poi questo libro vende poche migliaia di di copie chi se ne importa possiamo anche dire chi se ne importa purché ci siano autori che vengono assecondati dalla dalla loro casa editrice che vengono incoraggiati a continuare a scrivere libri di questo genere non è mai il dato delle vendite l'unica cosa che bisogna raccontare di un libro il successo di un libro chi se ne importa ha venduto duemila copie va bene lo stesso sono d'accordo con te anche perché vedo la lettura come uno degli ultimi forse l'ultimo baluardo di resistenza dove comunque al cinema film di quattro ore non se ne fanno più quindi sai questi film molto intellettuali oppure troppo impegnati sono ormai definitivamente cattati dalle sale la scrittura comunque ti impone come dicevi tu un'attenzione massima non ti puoi distrarre mentre leggi quindi chiaramente ogni pubblico ha il suo libro ed è giusto che poi lo scrittore sia libero di esprimersi come meglio crede e l'editore comunque gli va da presso su questo non ci piove e torniamo finalmente anzi partiamo dal punto di no di inizio di questa di questa storia editoriale di piero questo famoso libro la partita in cui praticamente eh Piero sbanca perché eh tutta una serie di riconoscimenti e di premi tra cui anche il il prestigioso bancarella sport e l'obiettivo l'oggetto di questo libro è chiaramente rivivere una delle partite più importanti nella nostra storia nazionale azzurra quel mitico Brasile Italia del 5 luglio del 1982 però anche in questo caso non è un libro che parla solamente di calcio giusto Marco sicuramente sicuramente e e se con l'ultimo libro ci ha fatto vivere a Parigi a fine dell'ottocento se con il libro su Dante Alighieri ci sembrava di passeggiare nella Firenze di quel secolo con questo libro innanzitutto torniamo tutti giovani insomma quelli che se la ricordano eh tornano giovani e io personalmente ho sentito il caldo che sentivo quell'estate proprio perché insomma è tale la la capacità di di farti medesimare di farti di raccontarti e di farti tornare a a alle atmosfere di quella partita che ho sentito caldo adesso sembro sembro matto a dire questa cosa ho ho ricordato tutti i particolari tutti i particolari di quell'epoca avevo dieci anni quindi per me personalmente il calcio era molto più del passatempo che si faceva con gli amichetti eccetera eccetera i calciatori eh per me erano infallibili e la la Coppa del Mondo era l'appuntamento assolutamente da non perdere la partita in televisione con gli amici con i parenti con con gli zii con il papà con la mamma eccetera eccetera e perché questa partita ecco perché un autore che prima ti racconta di Parigi di Firenze eccetera eccetera è capace anche di raccontarti questa partita perché è più di una partita è una banalità quella che sto dicendo è probabilmente una delle più belle partite di calcio che 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 siano mai state giocate sul nostro pianeta in in tutti in tutti gli anni se è una delle più belle partite di sempre e Piero quando quella scorsa estate abbiamo fatto un 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 incontro e le persone continuano a chiedergli di questo libro e lui ha detto anche un'altra cosa e se io poi ci ho pensato ed è vera l'andamento di questa partita è l'andamento è un perfetto andamento di una sceneggiatura di un film di successo perché l'Italia segna dopo cinque minuti e quindi è un colpo di scena perché Fabio ti ricorderai che il Brasile era favorito il Brasile era era zeppo di campioni e noi dovevamo andare lì a soltanto a perdere con onore l'Italia segna e c'è il colpo di scena poi pareggia il Brasile sembra che tutto sia andato sia andato al al posto però poi risegna l'Italia c'è il 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 climax come si dice insomma il punto di svolta della storia e però poi il Brasile risegna e quindi tu credi questo film finisce con il solito forte che schiaccia il debole e il debole perde come accade sempre non finisce così perché poi l'Italia segna un altro gol all'interno di una coppa del mondo di un mondiale che che tu ti ricorderai era zeppo di campioni quasi tutte le squadre avevano dei giocatori indimenticabili formidabili la Germania era fortissima l'Argentina la Francia fu un mondiale particolarissimo lui Piero racconta perché il mondiale passò da sedici a ventiquattro squadre in Argentina era un mondiale a sedici squadre la risposta è insomma svelo un il contenuto di un capitolo di questo libro è che la televisione cominciava a mettere le mani su questo sport nel senso che più partite trasmettevi e quindi dovevi allargare il numero delle squadre e più le televisioni potevano vendere i loro spot quindi il calcio si avviava proprio nel 1982 a diventare lo spettacolo planetario che noi conosciamo è nato tutto lì c'è il racconto del delle due squadre nel senso che lui che Piero racconta eh chi era l'allenatore del Brasile chi erano i calciatori italiani con le biografie di ciascuno di loro con particolari anche curiosi perché io non lo sapevo come come dormivano in stanza i calciatori italiani e non sapevo che nessuno voleva dormire con Tardelli perché lui non dormiva mai e allora Berzot sfinito da questo calciatore che non dorme mai prima gli mette il soprannome di coiote perché va in giro sempre per i corridoi dell'albergo e alla fine va dal da da quello dell'albergo di dategli una stanza singola perché questo non lo sopporta più nessuno e quindi ci sono particolari curiosi c'è la storia del calcio che che ripeto si avviava a diventare quello che è oggi c'è ci sono i rapporti con la stampa sportiva ci sono gli aneddoti legati al fatto al perché Zoff quando vince la monetina prima dell'inizio della partita sceglie un metà campo piuttosto che l'altro è una autentica miniera di informazioni è un libro bellissimo e e sembra veramente di vedere qualcosa più di una partita di calcio tu citavi il premio bancarella il premio bancarella è un premio particolare perché viene assegnato sulla base dei voti delle librerie nel senso che noi facciamo parte della giuria del premio bancarella riceviamo una segnalazione con i libri che sono stati selezionati dal dal comitato del premio io per la prima volta ho fatto campagna elettorale per un libro perché io ho preso il telefono mi sono procurato tutti i numeri di quelli che votavano e ho telefonato a tutti da Bolzano a Trapani ha detto votate per questo libro perché questo libro veramente merita di vincere questo premio e Piero fortunatamente l'ha vinto abbiamo sconfitto sul filo di lana mi pare Adriano Panatta benissimo anche perché da quello che tu hai detto c'è tutto in questo libro c'è un mondo c'è un mondo c'è un mondo di sapori d'odori di colori no che quindi questa partita fa rivivere e chiaramente anche qui un'opera non chiaramente eh lunga come quella lì su Drey Pugh sull'Affair però anche qui sappiamo che c'è del materiale che poi non è uscito eh nel libro che che Piero comunque ha sviluppato approfondito quindi anche qui c'è tantissimo materiale e tantissime storie che Piero chiaramente ci racconta con maestria e proprio tra qualche mese a luglio il 5 luglio del 2022 riporrono i 40 anni di questo di questa partita incredibile no alla fine eh Piero sta lavorando a qualcos'altro giusto? Eh quindi è una partita talmente importante che rimatta nell'immaginario collettivo che Piero sta lavorando ad un qualcosa che ricordi nello specifico questa partita Marco sì allora ovviamente eh questo libro eh avvicinandosi la i quarant'anni da questa partita serve eh per raccontare quel quell'epoca quell'estate quel mondiale meraviglioso e nella fattispecie Sky ha preso i diritti di questo libro e sta utilizzando questo libro per realizzare un tre episodi che racconteranno questa partita da tutta una serie di punti di vista eh ci saranno sì testimonianze dei calciatori eh testimonianze dei giornalisti di tutte le persone che c'erano però come si fanno adesso le cose adesso Fabio non si fanno più gli sceneggiati che si facevano trent'anni fa adesso la tecnologia permette di fare un sacco di cose ti permette di di parlare con uno che sta all'altro capo del mondo semplicemente con una connessione simile a quella che stiamo facendo noi a una chiacchierata come quella che stiamo facendo noi e Sky sta preparando questo questa questa serie questa mini serie ce ne saranno delle altre perché è stato un appuntamento importantissimo è stata una cosa importantissima adesso a dirla così sembriamo insomma eh dei reduci sembriamo i soliti brontoloni che raccontano delle cose di quando loro erano giovani però veramente questo libro serve a capire come è cambiato questo sport serve a capire qua perché è il più popolare serve a capire perché è lo sport più popolare del mondo serve a capire quante storie quante cose permette di raccontare e quest'estate vedremo questa serie questa serie di Sky che Piero sta collaborando a realizzare e sarà ancora una volta il il diciamo il modo per dicevo banalmente da un lato tornare giovani sentirsi giovani ma poi tornare a mettere il calcio nella giusta prospettiva e utilizzarlo per raccontare i cambiamenti della società questo è uno dei principali dei principali pregi di questo libro che come tu dicevi era molto più lungo e c'erano molti capitoli in più ma in questo caso evidentemente Mondadori ha privilegiato una lunghezza classica di un libro e si legge benissimo anche questo anche se qua ci sono particolari apparentemente insignificanti c'è la storia di quello che organizzò la coppa del mondo la coppa del mondo non andò bene per gli spagnoli e quindi ci sono tutti i motivi del i motivi di questo fracasso economico e tante cose non andarono non andarono bene però per gli italiani è rimasta una cosa indimenticabile una una serie di partite indimenticabili dei campioni a cui siamo ancora affezionati Fabio perché io personalmente quando sento parlare Antognoni Tardelli Cabrini Bruno Conti Zoff è una squadra talmente iconica talmente speciale particolare è stata un'avventura meravigliosa le prime nelle prime tre partite non strusciavano il pallone e sembravano sommersi dei fischi la stampa voleva la testa dell'allenatore al quinto minuto di questa partita Bruno Conti passa la valla a Cabrini Cabrini cross in area Paolo Rossi segna di testa e lì si apre tutto un altro film l'Italia gioca delle partite memorabili il paese impazzisce perché tu sarai stato bambino con il pallone sotto al braccio come tutti gli altri siamo tutti impazziti siamo tutti impazziti forse il calcio non è più stato quella roba lì da quel momento perché era fu veramente una festa indimenticabile è vero è vero quindi anche noi vecchi brontoloni cinquantenni ormai che ricordiamo queste questi eventi io ho letto il libro quindi esorto tutti gli amici di vent life assolutamente a andare in libreria acquistare una copia e e leggerselo e proprio godere tutti questi momenti che Marco ha riassunto perché ne vale veramente la pena quindi assolutamente un'opera imperdibile a cui seguirà anche un altro progetto di Piero con un libro fotografico giusto Marco che uscirà a breve sì perché Piero racconta in queste racconta in questo libro la sua ossessione per questa partita nel senso che Piero ha passato anni a raccogliere articoli di giornale a su ebay cercava il programma della partita poi ha trovato quella memorabilia particolare poi ha conosciuto quel giornalista particolare ha raccolto una tale mole di materiali testimonianze che tutta roba che gli è servita per il libro che Mondatori sull'onda del successo di questo libro questo libro ha venduto bene ha vinto dei premi sull'onda di questo di di questo successo ha proposto a Piero uscirà in giugno questa è un'indiscrezione che vi possiamo dare uscirà un giugno un libro che sarà il completamento di questo nel senso che qui non ci sono fotografie questo come dicevamo e Fabio lo possiamo leggere anche come un romanzo come una storia ci sono vari capitoli in cui si parla di un sacco di cose ma fondamentalmente sono parole su uno sfondo bianco uscirà un'edizione bellissima ricca di fotografie ricca di memorabilia biglietti delle partite fotografie che noi non abbiamo mai visto e che Piero si è procurato e tutta una serie di dati articoli giornali veramente servirà a ricordare questo questo appuntamento il libro dovrebbe uscire per il mese di giugno e sarà ancora una volta un diciamo un appuntamento per me personalmente imperdibile ma penso per tutti spero per tutti tutti quelli che insomma si sono affezionati a Piero Trellini e al suo modo di raccontare le storie ok Marco anche perché in privato ci siamo detti diverse volte quando abbiamo avuto la possibilità di con di stare con Piero di no che il trelinismo è un'inversione totale verso questo questo modo fluviale quasi veramente proprio incomparabile di Piero di riuscire a raccontare storie senti a questo punto vabbè io esorto ancora a comprare questo libro la partita è veramente un libro che merita la lettura da parte di tutti i cittadini italiani Marco grazie ancora grazie a te grazie a te Luisa grazie grazie a voi e devo dire mi avete fatto venire una grandissima voglia di leggere tanto il libro dedicato alla Fergrefus quanto questo sulla partita eh io avevo diciott'anni quando ehm e c'è stata questa famosa partita e lo ricordo benissimo perché ricordo che quando abbiamo vinto il mondiale mio nonno trovò un'ottima scusa per stappare una bellissima bottiglia quindi è un ricordo dall'altro al quale sono veramente molto affezionata e e credo che sia molto bello anche quello di Dante quindi devo dire consigli per tutti da da per chi ho per i gusti di tutti secondo me quindi obiettivamente Piero Trellini non non sbaglia un colpo benissimo allora grazie ancora naturalmente i libri li trovate presso la libreria pagina 348 di Roma e quindi vi aspettiamo online su Mets Life in libreria presso la libreria pagina tre quattro otto grazie a tutti grazie a tutti